Grazie a tutti 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 è stato un'estituzione. Ciò che ci siamo trovati, ciò che ci siamo trovati un periodo che ci si sposte in una posizione una margina della società, una guerra, ciò che ci siamo trovati un pocretino da l'istituzione. E in questo modo, definito come pocretino da, in questo modo, da parte di un'istituzione, non più satirico-humoristica, ma anche di puntare, pubblicare, tradizioni. Ci siamo conosciuti 3 anni prima, in questo tempo, il secondo mezzo, 1992. Smoje è stato un'estituzione e a me, i tanti, i un'estituzione, 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 che per il'esituzione da io avidio da io provo un'estituzione un'estituzione che non è stato un'estituzione da' il'estituzione un'estituzione non c'è niente. Non c'è niente, non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno. niente niente non è stato tutto ciò che si è stato nel 1991 era stato razzurato si è stato in lui il suo frattamento e non è stato in cui si è stato un intervjuo 4-5 pittà e ho capito che ho capito che ho capito e che il nostro generatore che è stato il nostro generatore in Dalmazione e in Jugoslavia non è stato un intervjuo che è solo un intervjuo un intervjuo un intervjuo un intervjuo che è stato il secondo il secondo il secondo il secondo è stato che è stato in questo che è stato un intervjuo che è stato un intervjuo il nostro che è stato un intervjuo un intervjuo un intervjuo che è stato l'intervjuo il nostro edunico che è stato un intervjuo e di nei l'intervjuo ci sono un intervjuo che non non ha nessuno Non, ma lo sopra. Il più normale in questo mondo è il quale ti chiede a Smovi. Non era facile da più tempo non parevo andare a scrivere per Feralta. E poi fu fuori da Smovi e tu che sei da Viktaro e da Senjanović. e che non sono mai più sui. E' stato un po' di più, come la più normale del mondo, come è stato un po' di più, fino al momento, non scrive e non si riefa. E' una nuova forza, una nuova energia, è stato un po' di più, è stato un po' di più, a un po' di più, che è stato un po' di più, qui siamo in una nuova lista Sto crampati il numero con datum dell'1è per il 93. Il mercato è stato stato sul 1è maggi. O 1è maggi è stato stato un giorno per il sveto Josipa Radnick. Mi ha guguato questo posto. e poi ci siamo suocili con una cosa che se buvano zove Smoj Rukopis. E come non è mai stato un altro, è stato un mladio dana, è stato un pollo progetto, è stato un pollo classico, ma è stato un pollo di 30 redi, è stato un pollo di 12, e poi è stato un pollo di stranici, Non si non sapeva che sia la stessa, è la stessa, è la stessa. Ma è stato un sport di più divertimento. Mi è davvero bello che mi ha piaciuto il ruolo e che mi sono spostato. Sì, dopo aver fatto, sono stati di Daktilografia. Ci sono stati di nello slovo dal Dalmace, che sono già conosciuto il suo rupo di Dranje. Quindi, è stato stato il suo rupo di Daktilografia. E così è stato fino alla fine. Smo è sempre preso il primo. Feral bi nel settimana, si è stato stampato, il popolo è stato già in Kolportaži, in Zagrevo, poi, a ponededio, il split riega, gli altri stadi, e, a ponedio, avete già messo sui colleghi, avete parlato delle cose, e avete il mio testo, avete il mio testo, avete il mio testo, e poi, quando siamo seduti con i nostri amici, il mio testo, allora, nel 1995, il tempo, il tempo, il tempo, il tempo, quando si è stato scurito, nel tempo, per i nostri amici, ma, quando si è stato scurito, quando si è stato scurito, che il mio testo è stato strato, che, Non mi sono per il prossimo brodo. Ovviamente quando predate il primo, chi va stira? Ma ora non c'è nulla? Non c'è nulla. Se chiede a tutti i giorni, quindi alla fine. Se chiede a tutti i giorni. Se chiede a tutti i giorni. Perché non? Perché voglio che ci resta un testo quando mi moro. E' la cosa più normale. E adesso... Non mi sono ancora visto, non mi sono ancora ancora così. E' un problema che non si mora. E' un problema che si è stato fatto. E' un problema che ci sono fatto. E' un problema che si è stato fatto. E' stato fatto a noi, non mi sono stato fatto. Ma prima di che è restato il testo, a e' stato il primo, è stato stato fatto. Pisa, che è venuto in legenda, ha scritto il nome di Pisa, ha detto il nome di Pisa, ha avuto il punto, e è venuto a morire. E così, l'ultimo testo è venuto in questo tipo di ferrali, dove è stato il nostro canale, dove sono stati nekrolozi, dove erano i nostri spettatori e i nostri spettatori. Dopo il prossimo episodio, abbiamo iniziato a lavorare con Smun. In 12 giorni, ero in Ferala. Quando ho scritto ancora prima, prima che mi ha preparato la sua parte, e poi te ricapitulare la sua parte, con il mio e Feralo, e poi ti raccomando da questo capitale. Non mi piace questa cosa, perché ogni intervju che si tratta più di tre carte, scrive che sia un'immagine. Quindi non è un intervjuo, è un'immagine, ma è un'immagine del'immagine. Ecco, ecco, è così. E poi si vrti il film e pensi a quello che si aveva il contrasto quando si aveva 20 anni e a qualcosa di tutto il tempo ti è stato un pozzo tutto il tempo è stato un pozzo tutto il tempo, anche se si pensi che era un pensiero, un pensioner, quando ti è stato stato solo da Azra, non è stato un pozzo non è stato un pozzo e questo è un pozzo definito. In un momento, in un periodo dopo il Second World War non ha portato un pozzo quindi non abbiamo trovato olfattamente. Se vogliono aggiungere, Predrag ha attivato questo libro di Spiritus Maul di Borisova, ha fatto anche quello che non sono visto anche le lettori. In questo periodo io mi raccoglio un pensioner non so se avete visto che Smoje ha scritto 109 colomni 109 è una idea di circa 900 cartici è un' grande materiale è molto interessante vedo che Adamić è interessato ora vedo, svegli parleremo dopo in un momento, nel prossimo 1993 Ferali è venuto da due giorni. In un columbio scrive che avevano l'obietà di traslare tutti i due giorni. E ora ci ha detto che questo non potrebbe essere possibile. Viste ignorare questo. Viste detto, come se non, perché noi stavamo a dare tutti i loro. Ma questo è stato ancora vero. Ma quanto ho scattato, cosa si è arrivato? Come ti ho detto, siamo passati nel ritmo, ma non è ancora più... Era il 94, ma non è ancora più tempo. Inizialmente, to sono stati rituali quando si tratta ogni 15 giorni e non si tratta di fare tempo ma non è possibile la scuola di fare ogni amount perché in questo è molto più importante non è stato iniziavole che non si tratta di tutti i tanti così. Mi è in fevere comandandovi pari per due due e se i due due prodacono la tre 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 i tanti due due prodacono sono diventati e fantastico e abbiamo avuto i tre tre e così è tutto iniziavole e non l'ho fatto quando si è arrivato la notizia, ciò di fare una marenda, un vino, un vino, un piaccio. Il momento in cui mi ha parlato di questo giorno, è il 12. del 1993. Quando si è arrivato il ritmo, non è stato solo rock'n'roll, non è stata una griglia, ma è stato un pollo di lavoro. Siamo arrivati in un settimo ritmo, occupati la redazione, iniziò in un'azvolta con il regime e la nostra città. Non c'è più tempo, non c'è un'azvolta per farlo. Prosti, non so perché ci siamo ovviamente spostati, a lui sono molto significato, perché il mio socialismo è stato abbastanza ridurato, e questo è una scelta di riduzione. Nel ultimo anni, era sempre possibile andare in un'auto, e lo spettacerebbe che ti volano molto a fare in una strada, che ti volano. Non mi sembrava che non ho scelto nessuno dei miei texti, magari su un po' guarda, ma era un po' 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 e l'unico il progetto patriote. E il suo mondo è stato un metafor per la sua moglieva per la sua moglieva scoprire i più, e la sua moglieva tracciando il valore. E il nostro corso è stato un po' di più. Quindi il nostro corso è stato un po' di più. Quindi il nostro corso è stato un po' di più. E quando ci sono ancora un po' di più, a poi ci sono stato un po' di più, di fare un feste. E' sempre bello bene. E qui abbiamo visto la legenda quando abbiamo fatto l'Omladinska Iskra che è stato un parodio di Dalmatia. Ci sono stati scinuti da l'Omladinska Iskra che sono stati mahinamente in un kiosco pensando che si chiamano in Slobodno. E questo è stato il nostro. L'Omladinska Iskra si chiamano in Slobodno a l'Omladinska Iskra a l'Omladinska Isisti Popit. Perché ovviamente come un poverso che ci sono stati che non ci sono stati e non ci sono stati e non ci sono stati e e noi pensavamo che Smoè scrive sulle sulle che si 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 sulle una cosa che si si e non aveva un apetit, non si può dire che era un malo, ma non aveva un piaccio. Non aveva un piaccio, non aveva un piaccio, non aveva un piaccio, non aveva un piaccio. E poi mi ha parlato come è gustavo, come è gustavo da aveva un piaccio che non aveva, perché fu anche un piaccio, non aveva un piaccio, faccia rifucia, tutti gli altri, senti, become una delle posizioni diateguce e comp intertwine le dire a davvero essere al rive, dopo la ricezione alle atau quelle che либо für AquizkiCin, non aveva un piaccio. sam non per essere un po tendenciesi e un concetto tra loro di yapılano come cololovi C'è un po' di più di più di Karpinevra, Zubaci, Arhilskavina, Jastosi, Prstaci e sveglianza. In un libro, in un libro, in un libro, mi ha raccontato come funziona, mi ha detto che stiamo facendo? Mi ha detto che stiamo facendo Manistru Usuvo. Mi ha detto che stiamo facendo un po' di più 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 di più. C'è lagùc'oしい cer Bendare tra l'idenza, molto tardi fino a can deformationi. Qu'è, ti tresno esperante il suppliesi S tossine, Splitt è stato una delle 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 prez secondo che hache il suo di okay? Smi Nenka Smoe, tutto quello che conosciamo, non lo conoscevamo. Il è stato un'esplice. E poi ti sono gli attenti. Questo è il giudizio di scrivere. Ti lo scriverete, lo ti piacciono. Smoe è stato un'esplice personalità. o di due giorni e di 10 anni in Jugoslavia il Smoj è stato una metafora e una significazione per Split Split è stato un Minjanko Smoj quando si sono davvero i mi è piaciuto che Split identifici con Minjanko Smoj che è deciso di essere un altro modo di essere come è stato un' 1983 e il 69 Split non è deciso di essere come è stato un'69 non è una cosa che è stato un' andere super-due ma è stato un'altra parte quale è una storia con una pola un'esame da si sono capito che è stato un'esame è stato un'esame e di cui è stato il mezzo è un'izofreni grado, tutti conosciamo, e voglio essere più qui con il suo solo, quindi come ogni piccolo, 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 provinciale di Kabadahia, voglio essere qui con il suo solo. Ma in ogni tempo, per quanto riguarda il suo spimento, l'ulico è già arrivato, come vuoi? Perciò che abbiamo fatto il tempo, ora è stato un reposizione, come vi ho detto, come vi ho detto, i nostri struzioni, e ora è stato un'escrizione, mi stiamo facendo un'escrizione, un'escrizione, un'escrizione di grado, e ora abbiamo deciso di più, non ciò che non si può essere un'escrizione, ma che ora è un'escrizione di turistica. A ogni turistica di destinazione, come sappiamo, ci sono dei brandi, ci sono una storia di un'escrizione, E' una di tanti storia di Splitski è Emiliano Cosmoje, ora dobbiamo tornare a prendere l'opera di niente storia di Splitskog Kroničara. Non ci si può scegliere a niente storia di niente storia di Luigi e Bepina e le altre opzioni che tutti vogliamo e tutti conosciamo. E' un'altra cosa che ci sono stati i nostri simboli, da' un'altra storia di Smoju, da' un'altra storia di Spomenik, sve come treba. E' stato una sottotitica come funzionare. E' sottotitoli? E' sottotitoli? Sottotitoli. Mi sono sottitoli, ma assai che mi sono stati. Anche io sono stati per la sua morte. Ci sono stati per la sua morte. Pisao è Gradsplit. Pisao è Gradsplit, ma... ...mena è tutta la visione. È proprio così. ... 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 Inoltre, c'è l'escrizione che vogliono stagliare i vienci. No, non bisognava chiedere Ivole, perché è Vienci Slav. Da, 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 da. Iltre, è stato più felice che tutti si muerano, solo che non si muerano i vienci Slav. Ma tutta questa книga ha ancora una significativa di un'escrizione. Io vorrei direttamente, soprattutto in un'altra parte, che è la storia di l'amore. L'amore è il mio amore, il mio amore è il mio amore, il mio amore è il mio amore di Cetipović. È così? È stato un fenomenonale. È un amore di tutto il momento. È un amore di quanto ti ho avuto. Tu sei stato un amore di loro, il mio amore è il mio amore. Il mio amore è il mio amore dell'amore, il 12 razgovore è vozzato la эту tesis. È un'amore di quello. È un'amore di tutto il secondo. È un'amore di tutto il mondo. È un'amore di tutto. È un'amore di tutto il mondo. È un'amore di l'amore è una, la sua grande, il mio amore, è un'amore di attivazione. È un'amore di un'amore, è un'amore di un'amore di tutto il mondo. Io ho parlato molto con Lepo, ho parlato di un libro Lepini, dove Lepa ha parlato di quanto riguarda la sua parte di Smojino, e da mi Smoj n'è potvrdio, iscrivano, che mi sono più skeptico per la sua parte, ma Smoj mi è potvrdio di tutto quello che si è parlato di Smoj, Lepa ha parlato della sua parte di Smoj, di Smoj, di Smoj, di Smoj. Lepa ha parlato di Smoj, di Smoj, di Smoj, di Smoj, di Smoj, di Smoj, di Smoj. Lepa ha parlato di Smoj, di Smoj, di Smoj, di Smoj. Lepa ha parlato di Smoj, di Smoj. Lepa ha parlato di Smoj, di Smoj, di Smoj. Lepa ha parlato di Smoj, di Smoj. E ora rappasca Orecom, di Smoj, di Smoj. Da mi sono venuto della tua fiazza di Smoj, sino alle famoso di Smoj, di Smoj. di Boris Anđak e così, e il gomino di tessi likti è davvero creato l'amore. Non è solo un coautorista di likti da queste fantastiche galerie, ma anche come una storia di una storia, una storia, un amore, 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 la mia signora, la mia signora, l'amore, la mia signora ha fatto la madre che è stata capace di Miljaka che è stata una madre molto mossa e è stata una delle 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 cose che si sono collegati da casa di un'altra cosa che è stata un'altra cosa che è stata un'altra non è stata un'altra con il tempo e il nostro ma in cui erano vivere. Il modo in cui erano viverebbe prima di fare un'esperienza in una situazione in una fine di una libertà in un'escrizione ma erano viverebbe un tipo molto carico. Voi sono già leggeri dei piccoli dei piccoli di metafora ma erano una cifra quando si diceva una cifra ma non è vero, non è vero, ma non è vero. un bel balkanismo-maus-maus-maus-maus-maus-maus-maus. C'è stata una scena di sveglia, ma è stato solo un sloj, che è stato più scena di sveglia, che io radevo fare un scena che è la più potretta, la scena di amore della l'amore. Non ho capito di capire, perché ho scelto, ma sono parlato, Miljanko e Lepa, come si sembrava, quando si spavano in odvojnimi sobrani, con l'initore, quando si spavano in odvojnimi sobrani, quando si spavano in odvojnimi sobrani, mi ha detto perché, come prima, che voleva il suo suo giusto, che voleva il suo suo privato, che voleva il suo suo sobe riepare, a, come prima, quando si vuole un' altro, se non mi fa bene, si può essere seguito, non si spavano in odvojo, quindi, quando si voleva, mi voleva andare in odvojnimi sobrani, non mi aveva la scuola, a quando mi era il rituelo in l'initore, si stavano in un'opera, si stavano in un'opera, si stavano in un'opera, si stavano in un'opera, che sono in un'opera, quindi, mi sono in un'opera, che potrebbero essere collegati da due due, non mi sono in un'opera, non mi sono in un'opera, ma tutti, vogliamo essere soli. e, questo è quello che ci sono oggi, ultimativi, quando si parla di un'opera, quando si parla di un'opera, quando si parla di un'opera, non mi sono più, più collegi di un'opera, più collegi di un'opera, quindi, così mi sono in un'opera. ... 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 e poi si chiama che su Split, Boris Dvornik, Minjako Smoja, ne znam, Olev Dragojević e Kajduke. E poi si chiama. Quando è arrivato la democrazia, quando è arrivato la nuova democrazia, quando è arrivato la nuova democrazia, la parte che è stato un'obietta di Bata Živoinović, che è stato un'amore di Beogra, quando è stato un'amore di HDZ, si è stato un'amore di Miljako Smoja, che è stato un'amore di Stric, un'amore che è stato un'amore di Boris Dvornik, che è stato un'amore di Miljako Smoja. Non si non si mai svegli, ma quando è stato un'amore di Boris Dvornik, io ci sono un'amore di Bata e da vivre una scuola di Bata che il modo di avere un'amore di Bata svegli, questo è tutto. Ci sono un'amore diador, l'amore di Boris Dvornik, ma l'amore di un'amore di Smoj, con Miljanko Smojo e tutti lo conoscono, nessuno di noi non mi piaceva, non mi piaceva, non mi piaceva, e ho chiesto di Miljanko Smojo, e questo è l'unica domanda che Miljanko Smojo non voleva parlare, non mi ha dato da obavere un libro, perché non mi ha dato lo stesso, non mi ha dato il tuo libro, ma non mi ha dato da cosa non mi ha dato, non mi ha dato il tuo numero da Morisa Dvornica. Il mi ha dato veramente come sinà da l'inizio, e quando siamo tutti l'amici, non mi ha dato il libro, non mi ha dato da l'inizio di Borisa Dvornica, e non mi ha dato il tuo libro, non mi ha dato che non si può andare in un libro. Non è dao. 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 Non è da. Non è dao. 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 non è da. Non è da. non è da. Non è da. ne è. Non è. Non è dao. красивo. Non è da. автомобili. Anni. Sta su costruire questo appunto in erica costruire, come per le loro che abbiano imparano. E l'intervo sono ippare svegi e piaccioni con i bloci��. Io ti metto oggi un intervjuo in un nuovo liste di s crianças che hanno pagato chiuso di noire. L'altro è stato stato detto, nel nero di più... Penso che ci saranno questo dalle che i riusci con questo tempo e sono arrivati in qualche settimana, credo che i forze, e una capacità di organizzare da se organizzare, da se occupare in un listo. Noi non sono necessari più di nessuno, ma anche per i risultati, in cui ci sono sempre, credo, mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto, un po' di più, un po' di più, un po' di più, e una domanda, la domanda è una domanda di faro, è se reale di andare in un paio e andare in un paio? Non è un paio, non è un paio, è un paio. Possiamo andare in un paio. Cosa che ci sono? Sì. Cosa è una domanda? Quali è la prima 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 prima? Per noi non è difficile da capire. Rijeka è molto simpatico, Klubić. ma 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 non ma mam ovo no ako nema pitanja sam sreo Miljenjka ti život ne sedam sretiš 95. on se vraćao iz Zagreba sa terapije Io sono venuto a un concerto di Stonza in Austria e abbiamo trovato a Hannibal in Lucic dove siamo andati per split era un'efforzio di prendere le carte e il tuo passaggio è stato molto di Carlsberg e si è piaciuto e si è usato ogni volta quando è in condut o che si dovrebbe essere venuto da un'escrita e che si dovrebbe essere venuto a prendere la cigare e lei mi ha detto quando si avvicinava ma che si è venuto più forte e lei non mi ha dato il rumore e lei non mi ha dato il rumore No, 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 no. No, 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 no. To su te čudesne miti naših barogradova. Dragi ljudi, ako je to sve, ja vas prekuštam potpisivanje knjiga, ako je ko nebavio. Puno vam hvala što ste u olikom broju došli. Hvala nikom. Hvala na sviđa sviđa.